Il periodo del Covid è stato molto difficile, molto difficile da un punto di vista sanitario, molto difficile perché il medico è stato spettatore e non è stato protagonista come di solito è con l'approccio al malato. Ogni sistema sanitario ha affrontato il Covid secondo le proprie strutture, le proprie capacità, il proprio razionale pensiero. Quello che trovo è che abbiamo avuto una monoterapia e una monomalattia per due anni e siamo stati quindi costretti a trascurare molti aspetti del lato medico da un punto di vista cardiologico, oncologico, reumatologico, immunologico, reumatico, eccetera. Praticamente tutta l'azione è stata focalizzata sul Covid, creando soprattutto a livello infantile dei grossi problemi, grossi problemi di salute di tipo psichiatrico e psicologico, tant'è vero che ci troviamo molti bambini con una percentuale molto maggiore a quella precedente costretti a andare in terapia psicologica una volta alla settimana, due volte alla settimana, tutti i giorni, anche perché c'è stata una grossa disinformazione da parte dei media nei quali si è parlato spesso che i bambini, i piccoli, erano gli untori della malattia e quindi potevano avere la capacità di infettare i nonni, di infettare i genitori, di infettare il resto. Questo ha prodotto in molti ragazzi nei quali il nonno è morto o il padre è stato malato per tanto tempo in ospedale, dei sensi di colpa enormi. Infatti, diciamo, le persone più difficili da curare sono proprio quelle in età infantile e in età giovanile. E poi abbiamo creato un grosso disagio negli anziani in cui tanti anziani, troppi, sono stati isolati dai familiari e non so quanto sia meglio morire di Covid o morire perché siamo isolati dai familiari. Grosso disagio nei familiari perché è difficile curare gli anziani che non riusciamo a vedere e oltretutto grosso disagio nella classe medica che si è sentita in seria difficoltà, non all'altezza di svolgere un compito che non gli era mai stato richiesto creando delle situazioni di tipo depressivo e di tipo autolesionistico da parte del medico in cui il medico si sentiva in colpa di non essere all'altezza di fare. Altra cosa da dire è questa che è troppo facile incolpare i giovani per la movida, la movida dei giovani. Io abito in un paese vicino a Firenze la movida dei giovani non esiste, esiste la movida degli anziani che sono sempre fuori del bar dove dovrebbero non esserci in gruppi più o meno numerosi che chiacchierano. La movida delle persone che sono per strada, questa è la movida, i giovani non c'entrano, è troppo facile sempre incolpare la solita classe di persone che non può difendersi e che non può dire la loro. Vediamo con te i sindacali in cui nessuno dice che lì c'è la movida, però se i giovani fanno confusione la sera lì c'è la movida. Come affrontare il Covid? Come affrontare il Covid? Io l'affronterò in una maniera essenzialmente diversa da tutti gli altri, perché il mio tipo di medicina è completamente diverso. è una medicina quantita in cui si occupa della cura a distanza del paziente, ma non della vigile attesa, ma del lavorare sul paziente con onde cerebrali che possano lavorare sul frenico, sul vago, sul lungo toracico, quindi cercare l'ossigenazione e di migliorare il metabolismo del paziente semplicemente stando a distanza. In questa maniera è possibile collegarsi col paziente, lavorare su di lui, lavorare sul disagio, risolvere dei problemi di ossigenazione, disolvere dei problemi metabolici e poi potersi collegare sempre a distanza sfruttando quelli che sono le inserzioni, l'innervazione del simpatico e del parasimpatico, cercando di lavorare con la mente su queste inserzioni, su questa innervazione del simpatico e del parasimpatico, in maniera tale da poter lavorare su tutto ciò che può essere problemi trombotici, problemi embolici, problemi di qualsiasi tipo che possano venire, da un'insufficienza renale ad altro. La strada delle frequenze, delle biofrequenze non è assolutamente conosciuta, è poco sviluppata, penso che meriterà molto da un punto di vista medico cercare di studiare e di lavorare su biofrequenze, anche perché il problema fondamentale è il costo, il costo delle terapie, le terapie nostre farmacologiche sono troppo costose, troppo costose, hanno un impatto limitato, vediamo bene che molti malati sono malati proprio in base all'uso del farmaco, l'uso del farmaco è la terza causa di malattia, se pensiamo anche all'uso del farmaco nella persona oncologica e molto spesso la persona oncologica muore di terapia, non muore di tumore, quindi vedremo quanto l'aumento dell'uso del farmaco possa produrre malattia e possa produrre morte. Le biofrequenze costano poco, sono poco sviluppate, meriterebbe molto studiare questo campo, perché noi siamo fatti di biofrequenze, un mio cuore ha un circuito elettrico, quindi come tale emette un campo magnetico, campo magnetico su quale io posso incidere con biofrequenze, molte forme disventilatorie durante il Covid io l'ho risolto lavorando a distanza e questo ve lo posso dire tranquillamente con pazienti che potrebbero confermare questo. Non è un modo convenzionale, in un domani vediamo se sarà una terapia medica o se la terapia medica in un domani sarà semplicemente basata sulla biochimica, trascurando completamente la biofisica del corpo.